Nel Robin C, Azzurra compie il suo vero capolavoro, dando il meglio di sé nelle regate decisive. Su 16 prove se ne aggiudica ben 9. In questo momento è molto importante, cioè dobbiamo assolutamente eliminare la plastica dal mare, altrimenti finiremo con avere più plastiche che pesci in mare. L'adulto che può spendersi su un progetto comunicativo lo fa poi proprio, lo sente proprio e lo intende perfettamente. Quindi credo questa sia la frontiera nuova di coinvolgere clienti e colleghi interni nello scrivere la storia dell'eccellenza del cambiamento dell'impresa. Piccoli gesti cambiano il mondo, se aspettiamo sempre che qualcuno li faccia per noi ci roviniamo. Chiudere l'acqua mentre ci laviamo i denti, cercare di rispettare l'ambiente senza plastica e monouso. Sembra inutile, ma superando il cinismo e impegnandoci diventiamo centinaia, migliaia e milioni di persone che si comportano così.